Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessereipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale. Mi piace questo vera e professionale perché ragazzi io le ho provate tutte in vent'anni di attività, partito da autodidatta, da ipnotista, da scettico, impaurito, dubbioso, eccetera eccetera sull'ipnosi quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca perché vedevo Giugas Casella in tv e mi faceva un po' impressione, ok? Oppure i film dell'horror e compagnia bella perché nell'accezione popolare la parola ipnosi ha assunto un significato molto negativo. Oggi parleremo di mal di schiena, cosa può fare l'ipnosi per eliminare l'ipnosi DCS vera e professionale, il mal di schiena, cronico o anche il mal di testa cronico. Che cosa può fare l'ipnosi DCS? Bene, l'ipnosi DCS vera e professionale che non richiede la tua partecipazione, che non richiede la tua volontà, che non richiede la tua vigilanza, eccetera eccetera e per cui puoi utilizzare anche l'audio mp3, molto controllo del dolore che elimina dolori cronici come il mal di testa, il mal di schiena oppure altri dolori cronici in ogni parte del tuo corpo e ciò non esclude che tu debba sempre comunque andare dal tuo medico, scongiurare che ci siano cause organiche perché è sempre responsabile del tuo medico, nel sottoscritto, negli associati dell'associazione, i primarie associati anche se sono medici, psicologi o psicoterapeuti, non facciamo diagnosi, non facciamo terapia, non curiamo. che è il tuo medico della tua zona, che tu ti trovi a Parigi, a Milano, a Hong Kong, a Los Angeles, in qualsiasi parte del mondo, è l'unico responsabile, quindi devi sempre e comunque, se hai dei dubbi, andare lì. Detto ciò, premesso tutto ciò, dalle nostre statistiche, con un solo audio mp3 DCS, controllo del dolore, tu elimini il tuo dolore anche fino al 100% se segui le istruzioni alla lettera, che sono istruzioni facili, a prova di nonna, a prova di pigro, a prova di idiota, che ti scarichi direttamente su internet, quindi vai su internet, clicchi, trovi, in base ai molti mp3 creati a Los Angeles, con un sapere antico che sfiora ai 70 anni, con i miei maestri, il professor dottor Michelanghel Garai, la dottoressa Rina Brunini, e il sottoscritto pure che dal 2008 ad oggi si ipnotizza H24, e sperimenta tutto ciò di cui ti parla, direttamente sulla sua persona, e su centinaia e centinaia di persone aiutate dal sottoscritto nel mondo, dal 2008 ad oggi, con il metodo DCS, l'ipnosi DCS vera e professionale. Tu premi play, non pensi più, e ti meraviglierai del potere della tua mente, perché le mie parole, che sono semplici, trasparenti, naturali, a prova di nonna, a prova di pigro, a prova di idiota, con un metodo veramente unico al mondo, che non ha nulla a che vedere neanche con l'ipnosi conformista e commerciale, di Milton Edison, Dave Hellman, Brian Weiss, ipnosi che tu, se sei un esperto di ipnosi, hai conosciuto, perché anche io ho fatto tantissimi corsi di ipnosi professionale, conformista e commerciale, che però, pur essendo ottimi, non hanno nulla a che vedere con questo metodo, perché l'ipnosi, prima di essere una scienza, è arte, ragazzi, ok? Perché scienza? Perché riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 come medicina alternativa della Chiesa con Papa Pio IX nel 1847. Se hai dei dubbi, fammi delle domande e ti risponderò gratis. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com Visita la mia fanpage ipnosi, auto-ipnosi del dottor Claudio Saracino e metti mi piace, se ti piace o condividi, perché mi faresti un grande piacere, non ti costa nulla. Iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi, soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino e fai share e condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid che gli può cambiare la vita e anche qui metti mi piace, magari commenta, aiutami a divulgare questo metodo di cesso, soprattutto te che magari hai provato l'audio MP3 di cesso e seguimi anche su Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi, soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino un bacio e un abbraccio e alla prossima.